Per l'invito a questo momento di riflessione su un elemento importante che ha citato prima Alfonso Pecoraro Scadio, io credo che l'agricoltura non sia un esempio, è l'esempio di come è possibile la convivenza tra la produttività, tra la produzione agricola, l'ambiente ed è l'esempio di successo della multifunzionalità. E anche per rispondere alla domanda partirei da questo. Credo che le fragilità del sistema agricolo sono meno forti nel sistema agrituristico perché dalla multifunzionalità anche in un momento in cui la parte agricola subisce le criticità legate ad alcuni fattori esogeni, penso alla siccità di cui oggi stiamo vedendo gli effetti devastanti in molte parti del territorio ma molti elementi del cambiamento climatico in generale e in generale appunto le difficoltà delle produzioni agricole dove quell'elemento diventa importante subentra la capacità di diversificare le fonti di reddito. L'implementazione che vediamo di servizi aggiuntivi sempre più numerosi delle aziende agrituristiche nei confronti della propria utenza dei propri clienti sta proprio a segnalare la volontà di diversificare le fonti di reddito che poi è l'elemento centrale dell'agricoltura in generale, quello di garantire il reddito degli agricoltori e l'idea della legge di orientamento è stata proprio questa, cioè dare maggiori garanzie a chi produce. È difficile aggiungere elementi nuovi rispetto a quanto è già stato detto in questo panel perché di fatto il modello agrituristico contiene al suo interno tutti quegli elementi che in qualche modo si cerca di ottenere dal sistema produttivo agricolo europeo. Di fatto quando nella nuova programmazione europea, nella nuova PAC si disegna l'architettura verde lo si fa applicando al modello agricolo alcuni degli elementi che nel modello agrituristico già ci sono da molti anni. E colgo le sollecitazioni giunte dal professor Becoraro Scanio e dal direttore Zaganelli e ringrazio Isme anche per il grande contributo che attraverso l'analisi dei dati ci offre proprio per individuare negli elementi migliorabili le soluzioni più corrette per andare incontro alla realtà delle aziende agrituristiche. Le sollecitazioni di rafforzare il nostro modello con un contributo italiano all'Europa proprio per individuare in questo modello una possibilità di sviluppo dell'agricoltura diverso da quella narrazione che ci porta alla dieta universale. E anche la volontà di rafforzare con diversi strumenti la peculiarità del modello agrituristico che da una parte è azienda agricola e ha i vantaggi dell'azienda agricola, dall'altra parte però è avendo la possibilità di diversificare le proprie attività rientra nel numero di aziende non convenzionalmente agricole e quindi può avere dei vantaggi da regime dei minimis o ad altri elementi. Che cosa ancora non funziona dove si può migliorare? Innanzitutto nella consapevolezza che il modello agrituristico è forte, Alfonso prima diceva noi accogliamo i turisti e poi ci accorgiamo che ci sono e quindi gestiamo il turismo senza in qualche modo guidarlo ed è se avessimo la consapevolezza dell'incredibile diversità di attrazioni turistiche che il nostro paese offre dai contenitori culturali all'ambiente, al paesaggio, alle tradizioni, alla cultura. Potremmo certamente sfruttare meglio anche dal punto di vista economico il turismo come elemento di sviluppo ma anche come elemento di traino delle nostre produzioni perché è chiaro che l'aumento del valore dei prodotti agricoli che vengono percepiti come emozioni in un contesto agrituristico di prossimità e che in qualche modo riescono a penetrare in mercati lontani per quel vissuto emotivo che in qualche modo offre l'esperienza agrituristica e se riuscissimo a sfruttare meglio questo elemento è il dato che è una percentuale molto bassa nelle aree del sud mentre c'è una forte concentrazione nel centro Italia, in Umbria e Toscana ci sono nel 97% dei comuni almeno un agriturismo è un dato che colpisce perché invece il sud ha un'attrazione paesaggistica, di tradizioni, culturale che si lega perfettamente col modello agrituristico e allora la capacità nostra dovrà essere quella di promuovere il modello in quelle aree con elementi di comunicazione che possano arrivare a chi vuole fare in qualche modo un passaggio dalla mera azienda agricola all'azienda agrituristica spiegando anche quali sono i vantaggi e le possibilità uno degli elementi critici guardavo sul rapporto, c'è un compendio normativo si diceva che quel rapporto non è soltanto un'analisi di dati ma è una cassetta degli attrezzi ed è vero c'è tutto un elenco delle norme che sottostanno al modo agrituristico io adesso non ho il numero preciso ma ci sono più di 150 norme che hanno in qualche modo direttamente o indirettamente un impatto sull'azienda agrituristica questo certamente non facilita il passaggio e l'implementazione dell'agriturismo come modello produttivo è chiaro che una riflessione su come semplificare la vita a chi vuole fare agriturismo deve essere fatta in generale la burocrazia di questo paese non brilla per stimolo all'imprenditoria ma credo che sul modello agrituristico ci sia quasi un accanimento terapeutico dal punto di vista delle norme diciamo che quando si dicono queste cose mi piace vincere facile in questo contesto parlare di sburocratizzazione e un po' andare a camminare su un tappeto però credo che davvero vada fatta una riflessione su come peraltro riuscire ad armonizzare in modo più efficace le disposizioni normative nazionali con quelle regionali è evidente che essendo il chilometro zero, la prossimità, il legame col territorio, il valore aggiunto dell'azienda agrituristica anche il modello normativo deve essere calzante rispetto alla realtà di quel territorio e quindi la regionalizzazione delle normative è un elemento essenziale ma deve esserci un'armonizzazione nazionale così come gli strumenti di incentivo ritengo che debbano essere in qualche modo gestiti da un coordinamento di un piano nazionale e su questo ci viene in supporto il piano strategico nazionale che è elemento fondante della riforma della politica agricola comune che di fatto avrà una misura che raccoglie l'esperienza della 6.2 e la 6.4 dei piani di sviluppo rurale e regionale che hanno sicuramente funzionato e stimolato gli interventi nel mondo agrituristico e che dovranno essere accompagnati da alcuni elementi strategici che nel piano nazionale stiamo inserendo le risorse finalmente abbiamo avuto una luce semi verde nella misura in cui la CSA la Commissione Agricoltura della Conferenza Stato-Regioni ha dato l'intesa sul riparto FEASR dopo quasi un anno di dibattito perché la nostra idea era quella di superare i criteri storici e arrivare a un modello più attinente con la realtà attuale della regionalizzazione dell'agricoltura di oggi e questo dovrà esserci l'ultimo passaggio formale in conferenza Stato-Regioni per questo dico che è una luce quasi verde questo ci consente anche di disegnare in modo più preciso e dettagliato tutti gli elementi del piano strategico in particolare le misure dei piani di sviluppo rurale, dei PSR che avranno un'attuazione regionale, che vedranno le regioni come soggetto attuatore ma che avranno comunque un cappello nazionale in ordine alla strategia e alla strategicità delle diverse misure la multifunzionalità del sistema agrituristico può avere dei benefici anche da altri elementi quindi penso fra tutte la norma sull'agrisolare che sicuramente potrà essere utilizzata dal sistema agrituristico per incrementare la propria capacità di produzione di energia da fonte rinnovabile su questo stiamo attendendo l'assenso, abbiamo risposto qualche settimana fa alle osservazioni della commissione sulla bozza di bando e sul decreto che attua la misura dovremmo avere una risposta positiva riteniamo entro il mese di luglio e immediatamente siamo pronti con la convenzione del GSE e con il decreto che istitui con il bando vero e proprio per consentire appunto l'installazione con incentivo di pannelli fotovoltaici sulle strutture aziendali quindi senza consumo di suolo, anche questo sarà un elemento di rafforzamento della capacità di diversificazione del reddito del mondo agrituristico che concludo, ricordiamoci sempre, rimane un'azienda agricola che offre servizi aggiuntivi e questo è un valore essenziale per consentire il mantenimento di quella capacità di produzione distintiva e di eccellenza che la nostra agricoltura ha e che lega la terra alle tradizioni, alle culture e in qualche modo al nostro modo di essere italiani. Grazie.